Come già sapete sono uscite anche le giacche, le mitiche t-shirt della linea Omisu Per lui, per lei, bellissime con una banda totalmente personalizzata Il logo gigante sulla schiena Omisu che significa acqua Edizione super limitata, acquistabile fino a gennaio credo Grazie Allora Giulio, io non so perché Pio Colorista ha scelto casa tua come luogo recreativo Come puoi ben vedere Quindi penso che a questo punto io potrò dedicarmi a un video di animazione E tu sei tranquillo con... se te lo lascio qui Eh, sì, tanto non mi sono neanche accorto che stava qui non so da quanto Che a vederlo sembra che si diverta qui in camera tua Quindi sì, te lo lascio E... a dopo, ok? Tenilo d'occhio Oggi, miei cari signori, andiamo a fare un po' di animazione Ed è per questo che possiamo permetterci di lasciare Pio Colorista a trastullarsi Molto e molto recentemente, parlando con un mio collega Ho deciso di appunto riprendere e fare più video di questa animazione Perché sono state trovate non solo molto interessanti Ma perché vorrei un po' approfondire con voi In caso, cercare di farle sempre più a base di tutorial E oggi in particolare faremo un ciclo di camminata Durante questo ciclo di camminata in realtà sarà una corsa Cercherò di spiegare par pa... par passo? Passo passo Come io gestisco un ciclo del genere Anche se per renderlo più interessante non lo farò a piatto Cercherò di dargli un qualcosina in più Ah, c'ho il fiatone Inizia... Ciao ragazzi Qui è il vostro amichevole gigino di quartiere che vi parla Volevo ricordarvi di mettere mi piace al video se ancora non l'avete fatto Già che ci sono vi chiedo anche di iscrivervi al mio canale YouTube Seguirmi su Instagram, Twitter, Snapchat, MSN, Tinder, Pornhub, Twitch e a casa Inoltre potete donarmi dei soldi su Ko-fi, Kickstarter, Patreon e il sito della Caritas Potete anche votare per me come il nuovo presidente della Camera, del Consiglio, della Repubblica e del mondo Grazie dell'attenzione Spero vi divertirete quando andrete a casa di vostra nonna domani Ah, Mokisuke, effetti speciali Bene, eccoci qua Con il nostro carissimo Anime CC Pronti a produrre qualcosa di magico, oserei dire Abbiamo già la nostra scena impostata Io ho già importato il video Se questo è il vostro primo video che vedete di animazione Ce n'è già uno Che vi fa vedere come importo un video Per disegnarci sopra Detto questo, oggi vogliamo fare un bel ciclo di camminata Come abbiamo detto Quindi la prima cosa da fare è preparare i nostri frame con F5 Poi F6 Uno, due, tre, quattro Poi ripartiamo dunque un pizzico dalle basi prima di affrontare movimenti più ricercati e complessi potremo andare a studiare un ciclo di camminata e capire intanto questo come funziona e quali sono le diverse opzioni che possiamo scegliere perché possiamo elaborare diversi tipi di camminata da uno molto basilare in cui una mano si muove in corrispondenza del piede opposto ovvero questa e questa che adesso è uno stickman e magari non si capisce possiamo lavorare su una mitica Naruto Run e io ho bisogno di lavorare su una corsa in questa scena in particolare e vorrei farla relativamente dinamica quindi voglio che per una buona parte della corsa la corsa sia relativamente normale, classica, bella dinamica e per un'altra parte magari il nostro soggetto tenda a girarsi indietro per controllare cosa sta succedendo dietro di lui per poi raddrizzarsi e riprendere la corsa magari non proprio normalissima ma un po' più alla Monster Hunter se non avete presente il gioco di Monster Hunter quando scappate da un mostro il personaggio inizia a correre in un modo buffo come se stesse guardando dietro tipo oh shit mi sta per raggiungere che è molto divertente ed è quel tipo di corsa che vorrei intraprendere da questo pezzo in poi ovviamente non abbiamo così tanti frame a disposizione quindi ora andrò a verificare la fattibilità di questa cosa cancelliamo tutto inizierò dal disegnare il mio gattino in un frame della corsa per poi aggiungerne altri e lo farò in modo stazionario nel senso che non mi metterò a fare un disegno qui poi un disegno qui poi un disegno qui poi un disegno qui per creare il movimento lo farò tutto fermo qua su uno stesso punto qui in modo da poi spostare il gattino in base alla sua posizione il gattino che più o meno avrà queste dimensioni inizieremo con la corsa basilare quella iniziale di cui abbiamo parlato non voglio prenderlo proprio di profilo piatto che si veda così ma voglio che si veda un po' di occhio da questa parte quindi non sarà proprio un tre quarti ma diciamo quasi un 70 gradi per essere vagamente precisi e dei gattini scelti farò quello con gli occhietti così è vero che la testa può girare e roteare in base alla posizione perché il nostro busto ruota un pochino quando corriamo questa è un'altra peculiarità che possiamo tenere a mente sempre perché recentemente da un mio carissimo collega mi è stato chiesto dopo che ha visto il mio video precedente sull'animazione come faccio a capire a decidere il peso del corpo l'andamento della spina dorsale eccetera eccetera io penso che derivi tutto da semplice osservazione un po' della realtà e un po' l'esagerazione della realtà stessa perché nell'animazione vogliamo un pochino esagerare quindi io sperimento anche mentre che disegno qui e cerco una posa iniziale molto solida che poi mi vada ad aiutare ovviamente il busto come vedete già gli sto dando una certa curvatura perché voglio dare una certa posa al suo corpo cioè non voglio che sia piatto così no mettendo che il piede che si sta sta facendo la falcata e il suo sinistro in realtà l'ho fatto anche troppo ampio vediamo che già sta quasi in fase d'appoggio quindi l'altro piedino sarà ovviamente piegato se questo è il centro del nostro busto in realtà io lo farei curvare perché voglio che la spalla come posso spiegarmi per aiutare qualcuno che magari non ha e non sta seguendo il mio percorso mentale quando io corro questa è la mia vista frontale quando io corro non è che questo piede che va in avanti questo vale indietro non generano nulla qui sopra non è che ci abbiamo qualcosa di disconnesso questo fa delle cose e questo rimane così se io mi sposto con questo piede non soltanto per renderlo più interessante non sarà mai una corsa dritta piatta in questo modo in questa direzione ma il nostro piede tenderà a fare sempre una curva per seguire una linea di corsa di conseguenza per bilanciare il peso il corpo umano tende a ruoteare il busto nel verso opposto in questo modo quindi la spalla finisce così e così e io otterrò qualcosa del genere in cui il mio busto la mia linea che identifica il centro del mio busto va a seguire una curvatura e questo è Jojo molto felice in realtà se volessi ancora di più esagerare il movimento perché quando parliamo di animazione vogliamo esagerare determinati movimenti per renderli più interessanti non al punto da renderli ampiamente innaturali perché se no lì otteniamo un altro stile di animazione che è quella molto più cartoon molto più esagerata che vediamo non lo so adventure time o robe simili quindi non solo voglio che il mio busto ruoti ma voglio anche che la spalla cioè che ruoti in questo senso ma anche in questo senso come posso spiegarlo così con il cubo magari si capisce in modo che la spalla questa qua vada a finire più in alto di questa qua sempre per un bilanciamento esagerato del peso è una corsa ancora più dinamica ed esagerata che non è non è male ed è quello che io voglio con questo gattino qui quindi vedete la linea del busto ruota la mia spalla quindi non è più qui ha ruotato finisce qui e l'altra è dietro magari sarà anche più in basso proprio perché questa è salita rispetto al tutto quindi dietro che sarà più basso intravedrò il braccino in questo modo suppongo secondo me questo frame di partenza è abbastanza solido ci ricordiamo come funziona con i mid frame bambini sì adesso perché non andremo a fare un'animazione diretta del piano piano cosa si va muovendo eccetera eccetera in questo modo ma faremo subito un frame molto più avanti rispetto a questa posa quindi io parto questa volta dal mio busto partendo dal mio busto e dal piede posso determinare molto meglio la distribuzione del peso e quindi come si va a costruire la parte superiore quindi io voglio che il mio piede qua già stia in appoggio questo piede qua l'altro piede di fronte il suo destro avrà seguito questa arcata pronto per partire con un'altra falcata in realtà posso sbilanciare ancora di più il peso rotando un pochino il tutto e qui potrebbe essere letteralmente appoggiato con la punta sta proprio per spingere e ovviamente essendo sbilanciato in avanti perché in questo caso sarà sbilanciato in avanti prima di spingere la posizione del mio busto varia e la rotazione in questo caso inizia a venire da quest'altro lato qui potrei fare le spalle relativamente parallele perché questa si sta per alzare per ruotare di più e questa si sta per abbassare se prima quell'altra era quella più alta e quell'altra più bassa adesso qui si sono riappareggiate per questo movimento il braccio qui inizia ad essere di fronte e questo qua inizia ad andare dietro per mantenere le proporzioni perfette del viso mi vado semplicemente per ora a ricalcare la sua forma me la seleziono e la ruoto in base alla posizione che sarà in avanti voglio che il mio viso sempre per rendere il tutto più interessante e più dinamico faccia la cosa opposta del busto e che quindi vada d'accordo con il bacino qui andiamo un po' fuori di testa lo so però se prima abbiamo detto che il mio bacino ruota in questo senso per la falcata e quindi il busto ruota in tutt'altro senso per bilanciare il tutto la testa voglio che giri nello stesso verso del bacino per continuare a bilanciare il tutto è tutto un gioco di rotazioni come dire le macromasse dei punti essenziali del nostro corpo e questo eviterà che si crei piattezza nel mio disegno addirittura qua potrei farlo davvero di profilo adesso questo bello gattino me lo sposto precisamente qui dove c'è stato il contatto con il piede quindi toc toc e adesso finalmente passiamo ai mitici mid frame quelli di cui abbiamo parlato l'altra volta quindi con f7 mi vado a creare un frame vuoto in mezzo e abbiamo un frame vuoto su cui lavorare in cui andremo a disegnare ciò che è successo tra queste due scene tra queste due tra questi due fermi immagini cosa è accaduto non lo so andiamo a vedere allora sicuramente il piede è qua già appoggiato parto dal punto del contatto qui è già teso il piede allora io mi viene da dire qui se si era appena appoggiato l'ha piegato per attenuare il peso boom 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 piegando il ginocchio di conseguenza il bacino sarà più in basso rispetto a questi qua quindi sarà tipo qui l'altro piede inizia a venire in avanti è a metà se questo già si sposta molto in avanti qui era quasi sopra il bacino qui è proprio davanti al bacino quindi qui sarà una via di mezzo e sarà anche un po' più basso perché io mi sono abbassato ole la spalla prima era alta così adesso è alta così quindi una via di mezzo e sta iniziando a ruotare come abbiamo detto qual è la via di mezzo invece per il braccio se prima era già qua su e qua e qua su qua lo facciamo in mezzo ole qui dietro direi che si inizia appena a intravedere la manina rifaccio la mitica furbata del viso così da mantenere come ho detto le proporzioni questa è una cosa che poi che possiamo fare adesso in fase di schizzo ma poi non sarà uguale come scorciatoia quando si tratterà del definirlo lo voglio anche ruotato ancora un pochino lì indietro in modo che mantenga questa tensione ad andare lì indietro quando appoggio per dare ancora di più quel senso di movimento vorrei provare a ruotare la testa in questo verso ho appoggiato lì ok ha senso e vedere cosa succede beh essendoci stato l'impatto con il pavimento io deduco che le orecchie vadano verso l'alto subiscano una sorta di rimbalzo e qui abbiamo per ora solo tre frame che non sono ancora sufficienti per questo movimento o dipende poi dalla velocità che vorremmo che abbia un frame che mi interessa mettere è tra questo questo qui e questo qui perché qui è dove io voglio sentire il rimbalzo per bene quando lui appoggia il piede l'impatto quindi un mid frame qui ci ho metto un mid frame dove per far capire bene il rimbalzo questa volta parto dal viso le orecchie dopo l'impatto si abbassano adesso devo trovare graficamente però come farle abbassare in modo carino quella dietro magari non la vedo più la rotazione del viso torna piatta visto che qua sta per prendere l'altra inclinazione vado quasi sempre più di profilo e mi sposto ancora più in basso non proprio a metà tra i due perché per fare in modo questo movimento risulti più veloce questo sarà quello più breve tac tac e poi boom me lo ritroverò già qua perché sarà più veloce oddio io sto cercando davvero di spiegarmi però non so se sto più lavorando con quello che mi dice la mia testa senza dirlo in modo chiaro ci provo oppure se sono chiaro non so se sono chiaro sono chiaro ditemelo nei commenti per favore il mio busto quindi si sposta un po' di più ugualmente il mio bacino non troppo perché come ho detto il movimento minore qui voglio che sia questo e il movimento maggiore voglio che sia questo quando io passo da questo frame a quello successivo voglio che già il movimento sia partito bello carico e quindi che nell'animazione si senta che questo momento di vago stallo cioè l'appoggio a un vago stallo se ci pensate la falcata è quella veloce è quella più figa e veloce sì e qui addirittura potrei azzardare di alzare ancora di più questo braccio fino a qua aziono quassù velocemente il ciclo di animazione ripetitivo per vedere come sono questi frame e schiaccio invio ok fino adesso non si capisce granché perché abbiamo fatto pochissimo del movimento però la fase intermedia secondo me ci sta vedremo meglio l'impatto al suolo soltanto quando faremo altri frame per ora è ancora troppo presto per valutare bene e questo fa parte dell'animazione il dover tornare indietro in caso cancellare o modificare fa parte del gioco che vi piaccia o meno quindi adesso continuo a disegnare un frame di fronte a questo qua che sarà la mia falcata a questo qua che sarà la mia falcata in aria a un'altra cosa a cui non ho pensato è che questo qua dietro se voglio far sentire di più il movimento del salto e le orecchie tocca che stanno un po' più belle tese all'indietro e anche molto più grandi perché sto già perdendo le proporzioni ruoto ancora di più la mia testa qui le mie orecchie magari si sono già iniziate ad alzare perché sono elementi rigidi del mio gatto quindi nella fase di maggiore movimento ovvero quella precedente si sono abbassate ma qui si sono raddrizzate per quanto riguarda la falcata per passare a quello che è questo frame questo qua lo utilizzeremo adesso per aiutarci a fare il nostro mid frame qua se pensate che dopo quello arriverà questo però opposto in realtà mi può essere utile per capire l'andamento della spina dorsale da questo passaggio a questo passaggio se qui ero molto teso in avanti qui sarò quasi quasi dritto questo braccio si è alzato di molto questo qua è salito ancora di più e sono in piena falcata del piede destro suo destro riproviamo con il ciclo e vediamo se migliora un po' la situazione ok adesso prenderò la nostra pose iniziale cercherò di tra virgolette specchiarla vediamo se ci riesco senza dover cancellare troppa roba in questo caso la rotazione opposta questa spalla è la più alta questa qua dietro è la più bassa no è l'opposto è l'opposto questa è la più bassa yes baby torniamo ad essere un po' più piatti con l'angolazione e anche il suo posizionamento deve essere molto più qua quindi toc 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 e da qui vado avanti copiandomi quest'altro frame lo butto qui e come ho fatto adesso vado a cancellarmi zampe e cose per fare l'opposto quindi in questo caso quella frontale che si piega quella dietro inizia a muoversi verso avanti le spalle si iniziano a raddrizzare ne copio un altro ne copio ancora un altro perché andremo a modificare questo anche il viso che è da modificare perché qui se prima l'avevo fatto ruotare in questo modo qui voglio che ruoti in questo modo vediamo un attimino ciclo continuo signori ok ok secondo me iniziamo davvero ad esserci ci mancano ci manca un frame per collegare definitivamente la falcata ci manca il frame della falcata volante che è questo qua di quanto mi ero spostato sto più o meno sopra il ginocchio qua quindi qua profondità ok qui mi tocca qui e leppure praticamente perfetto qui è da modificare la posa spalla in alto qui spalla in basso qui rotazione della testa opposta e anche posizione della testa qui c'è qualcosa che non va questo orecchio sarà più basso ok proviamo così sposterò tutto più indietro adesso che mi sono spostato tutto più indietro teoricamente posso anche copiare questi frame copia frame incolla frame per fargli proseguire la camminata questo letteralmente con quattro falcate quasi che mi attraversa tutto lo schermo quindi sicuramente è da cambiare qualcosa vediamo come si muove lungo tutto lo schermo ok zoomiamo per bene lungo tutto lo schermo ok ok sento un pizzico di lentezza in alcuni punti ed è qui che entrano in gioco i frame singoli per accelerare un'azione che non voglio che duri tanto la faccio durare solo un frame quale può essere quella che va accorciata? forse parte dell'appoggio? proverò prima con la parte dell'appoggio quindi questo frame qui lo farò durare sempre un solo frame e vediamo cosa succede rimuovi fotogramma rimuovi un fotogramma rimuovi fotogramma rimuovi fotogramma vediamo ora come si muove durando solo un fotogramma quella parte l'impatto dell'orecchio fa cagare così sembra uno scatto potrei provare a rimuovere quello prima quello della prima fase d'appoggio proviamo vediamo se è migliorato qualcosa questa volta mi sembra di sì in realtà sì secondo me è migliorato sostanzialmente questa volta e il metodo migliore per capirlo sapete qual è? staccare letteralmente 5 minuti e vedere se noto qualcosa di fastidioso ok signori io l'ho rivisto più e più volte e sono convinto che così funzioni e qui a metà è dove cambierò la corsa come ho detto perché voglio che succeda qualcos'altro che renda l'animazione più interessante sì è vero potrei fare poi un bel copia e incolla e coprire tutto lo schermo e togliermi questo peso enorme della corsa però la mia testa dice no peo puoi fare di più puoi rendere tutto più interessante non so quanto sia un bene in realtà però sono qui a farlo madre perché sei tu madre quindi da qui mi sono spostato i frame qua su semplicemente perché voglio comunque aver presente l'andamento della corsa ma in realtà mi servirà solo come riferimento e lo renderò appunto più trasparente e adesso posso tornare qui sotto nello schizzo quello che vorrei fare adesso miei cari bambini è quello di far proseguire il mio gatto in un andamento un po' più curvilineo che si avvicini quindi alla fotocamera all'inquadratura per non fare una corsa piatta così ma che faccia tipo wow qualcosa del genere appena appena non troppo quindi prendendo la base di partenza aiutandomi quindi con lo schizzo che ho reso più trasparente di là cerco di dare più tridimensionalità per far riprendere questa direzione e io adoro adoro complicarmi la vita bebe adoro swerving guaccio canna bebe bene perip sicchè in boondi dori vidi dori sicchè in boondi dori 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 sicchè e boondi dori 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 sto infazzendo fuck swerving sicchè in boondi dori dori hey how you doing bro how are you doing I'm doing fine bro come on come on come on dude dude Look at this dude Look at this dude Tra l'altro non ho mai fatto la coda Fino adesso Un po' perché sono scemo Un po' perché vabbè posso farla in chiostro direttamente Dude look at this dude Ok quindi adesso qui c'è la falcata Per la falcata questa direzione Swerving Sick and boorys do Booring dore Hey Sick and boorys dore Hey Sick and boorys dore Booring dore Hey what's up dude Dude look at this dude Signori il mio cervello è andato a quest'ora Cioè io sono tre giorni che animo Che faccio animazione Qui sapete che cosa faccio Per complicarmi ancora di più la vita Inizio ad aprire la bocca Esatto Esatto signori Inizio a mostrare un po' di espressività facciale Da sua rantocchina E questo lo posso anche ingrandire un pelino Mi abbasso Mi abbasso Signori guardate come mi abbasso Inizio a piegare in avanti Signori guardate Il ginocchio si piega Attenzione Perché è appoggiato ormai Bu 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 Qui mettiamo questa posa così Bababam bababam Perché sta per ruotare signori Sta per ruotare Attenzione Come va Come va Come parte carico Attenzione signori No fa cagare No fa cagare così Forse meglio così Così ok Ok Look at this dude Look at this dude Bro 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 Listen to me Listen to me Look at this dude Sta testa fa cagare Minchia se fa cagare Ehi Aiuto in due Ok ci siamo signori Attenzione Guardate come curva Come ruota Quella testa Incredibile Chi l'avrebbe mai detto Chi Chi Non io Non io Perché Il mio cervello Non ne può più Perché Questo è quello che dura Solo un frame Si è appoggiato signori Adesso sta per Cambiare di nuovo direzione Torna di là Attenzione Eccomi Passa così Pum 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 Pronti a ripartire Con Una fantastica Falcata Attenzione Bro A parte che qui Se sono un vero Un vero uomo Non farei questa cosa Ma siccome non lo sono Un vero uomo La faccio Sono proprio una donnicciola Che ricicla i frame Ah 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 chi se lo sarebbe aspettato Eh Non io Non io Non te Non io Chi Tua mamma Ecco Si questo frame È riciclabile Alla grande Proprio Proprio super Super top Del top È riciclabile La falcata lassù In realtà si signori Guardate Guardate Come ricicla Come bara Attenzione Guardate come va A barare Il signor Peo Mamma mia Mamma mia Come vado a barare Guardate Oh guarda Qui l'unica cosa Che vado a fare È che la mia testa Cambia direzione Signori Facciamo che fa così Che inizio a vedere un po' di Retrotesta Pam Perché lui vuole tornare di qua Vuole tornare di qua Signori Voi non lo sapevate Ma lui Lui vuole tornare di là E io che gli dico No? Lui farà come gli pare No? È riciclabile questa? Mamma mia Come la riciclo Guardate Guardate Come me la incollo Mamma mia Mamma mia Mamma mia Come me la incollo Io nessuno Guarda Ovviamente devo cancellare Un po' di tutto qua È necessario anche Che questa gambina qua Mi vada un pochino più avanti Perfetto Mamma mia Così si vedono un po' di capete E prosegue Il salto Che va a tornare là Sulla linea Di corsa primaria Ok Vediamo Ok Qui a terra Con il sinistro Ovviamente sta guardando Dall'altro lato In realtà qui possiamo Iniziare a fare Che un pochino Si mette già di profilo Inizia a guardare Un po' più di qua Quindi si inizia Finalmente Intravedere l'occhio Ok Questa gambetta Mi va un po' più in qua Perché sto un po' girato Perfetto Mamma mia Perfetto Mamma mia E qui torna tutto Alla normalità Signori E tornando tutto Alla normalità Si rinizia A ricopiare I vecchi frame Da paura Da paurissima Sio Sio E con l'ultima Falcata Signori Il mio gatto Se ne va Sparisce Dalla scena Decide Basta 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 Per oggi Andiamo a vedere Finalmente Come si vede Tutta la corsa Pronti Invio Bello Bello Quella deviazione Ha reso tutto Più magnifico Tipo un passetto Olè Olè Tun 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 Olè Tun 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 Olè Tun Yes Das war Am To Kira Ba Ok stop Signori Abbiamo il nostro ciclo Di camminata Di corsa Di tutto E riassumendo Per fare quindi Un ciclo di camminata Di corsa È quello di partire Da dei frame Come abbiamo fatto Spegniamo questo Così facciamo un riassuntino Partiamo da un frame Di movimento Secondo passo E facciamo dei frame Molto più avanti Nel movimento Terzo passo Aggiungiamo Un bel frame In mezzo E da lì Iniziamo ad aggiungere Altri se necessari O addirittura A tagliarli Per rendere più fluido Il movimento Sta a voi La scelta Sta a voi Lo studio Questo è un qualcosa Che tra virgolette Non posso trasmettere Io Ma che viene con la pratica Nel tempo Con la sperimentazione Diciamo così Più provi Più troverai Un tuo stile Più troverai Un tuo flusso Che ti aggrada Quando disegni Quando animi E più imparerai A gestire Il movimento A riconoscere Il movimento Una cosa Che mi è stata chiesta Dal mio carissimo collega Era proprio Come faccio io A sapere Quando è che La colonna vertebrale Così curva Il peso Eccetera eccetera Beh lo vai a notare A forza di far pratica E un'altra cosa Che vi può aiutare Moltissimo E sicuramente Vedere altre animazioni Io ogni volta Che mi vedo Non lo so Un film dello studio Ghibli C'ho una voglia Pazzesca di animare E lo prova Una delle ultime animazioni Questa animazione Che vedete qui Della schioma Dell'acqua Che il gattino nuota Con la sua coda Mi sono fatto prendere Un po' La mano Diciamo così Per quanto riguarda Le bolle la schioma Perché recentemente Ho visto con i miei amici Porco rosso Ho rivisto Porco rosso Dello studio Ghibli Che c'ha delle animazioni Dell'acqua Soprattutto della schiuma Del mare Quando esplode Quando c'è tanto movimento Che sono pazzesche Io quando ho visto Quelle robe Ho pensato Non posso Cercare più Mezze soluzioni E fare delle animazioni Accettabili Io voglio fare delle animazioni Che quando io stesso Le riguardo Penso Che figata Ho dato quello che Potevo dare Ho dato il massimo Si può sempre far di meglio Ci sono delle cose Che già riguardando qua Dico cavolo Se avessi pensato Anche a questa cosa Sarebbe stato il top Magari mi ha preso Un giorno intero Fare soltanto questa scena Ma così La qualità Sarà sempre alta Quindi se ci avete Una bella idea E invece di Aggirarla O raggirarla O trovare mezze soluzioni A meno che il tempo Non ve lo consenta Svolgetela sempre Se ci avete un'idea Fatela tutta Non vi preoccupate del tempo Ci vorrà il tempo Che ci vorrà Però poi la soddisfazione Sarà tutta vostra Ampiamente Adesso Io cosa vado a fare Vado a Ridisegnare La lineart Del nostro Simpatico gattino E visioneremo Tornerete Con me Una volta affrontato Questo passaggio Il nostro corso Il nostro corso E visione Il nostro corso è un'idea Fanno cagare le mie ombre Kisuke Eh, falle morire un paio di volte Che vuol dire? Che è Shadow State Twice Bene, questo l'ha anche registrato Kisuke Kusil Se vuoi lo puoi sottolineare nel video Quanto mi ha fatto ridere quel meme di Shakespeare Hai visto il meme? Ma io me lo sono perso, mi sa È il meme più bello degli ultimi mesi, secondo me Anzi, del 2019 Da quando PewDiePie si era preso quella pausa me li sono persi tutti No, ma è del primo che prendesse la pausa Ah, sì? Quindi non lo scusi Praticamente il meme originale era Shakespeare, è uno degli scrittori più conosciuti in tutto il mondo E le sue opere sono studiate ancora oggi Sempre Shakespeare You are a saucy boy E poi in un'altra opera aveva scritto What you egg? E poi tra parentesi quadrate Is Shakespeare Davvero ha fatto così? Sì Ma hai chiamato così You egg? Sei un uovo Quello è un insulto a cui non sai rispondere Forse è per quello Sai come si risponde a quell'insulto? Devi infilzare chi te l'ha detto Stupido uovo Infilzato Bene Kisuke sto registrando l'ultima parte del video Davvero? Kisuke che cosa? Perché mi risponde? Ah Signori abbiamo finito di animare Quindi quello che adesso dobbiamo fare è importare il tutto nella nostra scena Come abbiamo sempre fatto Come vedete siamo arrivati alla quindicesima scena di questo progetto incredibile File importa E poi è esportato a parte ovviamente l'ombra Perché sappiamo che magari è troppo potente come intensità l'ombra E andremo a renderla un po' più trasparente Quindi l'abbiamo messo nella scena Dobbiamo mettere il moltiplica all'ombra In modo che si mischi con i colori sotto Abbassiamo ovviamente il livello di trasparenza Affinché sia decente Secondo me così è decente Vediamo Sì mi sembra perfetto Perfetto Posserei dire perfetto Quello qui passa il bambino ok Ovviamente le luci sono necessarie Le luci Effetti di luce Me li copio e me li incollo qua Andiamo un attimino a giochicchiare con questa luce Che è un dosta Sta un po' qua La faccio un po' più sfocata La sposto un po' più verso questo lato Come se qui ci fosse un po' più di luce Vediamo come cambia la luce sul gatto Sì si vede che è un po' sfumato Che si illumina un po' di più in avanti Forse potrei azzardare Di allargare ancora di più questa luce Perfetto E ci siamo signori Ecco a voi La camminata Bene Ora possiamo vedere Infinite volte A ripetizione Il nostro gattino Come cammina Ah è vero Qui passa dietro il palo E io non l'ho fatto passare dietro il palo Bene Andiamo a farlo passare dietro il palo Come funziona? Nel momento in cui va a passare dietro il palo Creeremo una maschera invertita intorno al palo Quindi io parto qua Un puntino qui Pic Un puntino lì Un puntino qui Chiudo Wow 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 Dove vai? Seleziono invertito E voilà Ecco il mio gattino Che passa dietro il palo Perché l'ho mascherato Perfetto Perf Look at this dude Me lo risporto così da poterlo vedere a ripetizione infinite volte E ora possiamo ammirare il gattino che va dietro il palo Wow Look at this dude Look at this dude C'è qualcosa che non mi ha in quell'orecchio? No è perfetto Perfetto Signori Abbiamo finito Quindi andiamo a vedere come sta Pea Colorista Nel frattempo vi dico Mi trovate praticamente ogni giorno Live su Twitch Il pomeriggio Se non la sera Dipende Comunque lo avviso Sul canale Telegram Link in descrizione A fare questa animazione A portare avanti questo lavoro Che ormai manca davvero poco signori Manca davvero poco Spero di esservi stato utile Spero di esservi stato utile E andiamo a vedere come sta il piccolo Pea Colorista Giulio Giulio Come sta Pea Colorista? Penso bene Non è qui però What? Ti sei perso Pea Colorista? È silenziosissimo Non lo sento Non è come se non ci fosse Dobbiamo Andare a trovarlo Andiamo Punto Dita da elfo finita Asciuga Peo Dobbiamo comprare l'acqua Ciao 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 però Grazie a tutti.